Sono contento per la squadra perché inizialmente eravamo partiti sotto tono, un po' sotto ritmo, ci hanno aggredito subito con una zona che non ci aspettavamo, ma poi la squadra ha reagito bene, ci siamo ripresi e poi è stata tutta in discesa. Personalmente il coach mi aveva chiesto di mettere più aggressività in campo e è quello che ho fatto. Grazie per la visione!